Vlog di Sanremo giorno 4, guardate oggi chi mi ha raggiunto! Abbiamo fatto un bel pranzetto di pesce e poi guardate chi abbiamo incontrato, Alessandra Sanremoso! Poi ho avuto l'onore di intervistare Enzo Miccio, raga, ma come ti vesti? Dopo finalmente è salita sul palco anche Ariane e ci siamo divertiti tutti tantissimo. Una volta tornate a casa ci siamo messe a fare una live simultanea, io sempre indecisa su quale vestito mettere e ovviamente voi mi avete aiutato. Piccolo retouch del make-up che mi ha fatto Ariane, ce n'era bisogno perché non era abbastanza rosia ed ecco qua i nostri make-up completati e noi con i nostri outfit. Poi di solito siamo il contrario, lei rosa e io blu, ma quest'oggi è così. A cena siamo andati in questa villa magnifica, guardate che location da urlo. Abbiamo mangiato ed era tutto tutto molto buono, mi sono divertita un sacco. Noi ci vediamo domani per il prossimo vlog!